Lecce Inter 0 a 4 un'altra vittoria travolgente della nostra Inter che ormai vince in qualsiasi modo contro qualsiasi tipo di avversario turnover più turnover meno difficoltà in più difficoltà in meno di rimonta o di dominio del primo minuto l'Inter nel 2024 sa solo e soltanto vincere con quattro gol tra l'altro per la terza partita di campionato consecutiva nel post partita andiamo a dare i voti ai giocatori scesi in campo stasera consapevoli che è stata un'altra partita di dominio dove però cerchiamo di essere oggettivi cerchiamo di giudicare le prestazioni in maniera oggettiva di come sono andati i giocatori dell'Inter ricordandoci che abbiamo cinque fasce MVP per il migliore in campo top per quelli andati particolarmente bene ok per quelli che sono sulla sufficienza rimandato per quelli sotto la sufficienza flop per quelli andati particolarmente male ricordando che nel caso di una vittoria così agevole per il 4 a 0 l'ok chiaramente è un voto comunque alto e anche il rimandato è semplicemente per differenziare dagli altri qualcuno che ha convinto un pochino meno di sicuro il rimandato di oggi non è un cinque vista la partita che ha fatto quest'Inter non sono voti bassi ecco comunque visto il controllo ed il dominio fatta questa premessa fatto questo contesto partiamo da Emil Audero il portiere che oggi sostituisce Jan Sommer influenzato per la prima volta credo perché nelle altre partite in cui aveva giocato aveva sempre subito gol per la prima volta con l'Inter non subisce gol per merito anche molto della difesa e di un po' di imprecisioni offensive della squadra avversaria devo dire che secondo me porta a casa comunque un ok perché il suo lo fa se vi devo dire però sono tranquillo e sereno con Audero in porta vi dico sinceramente di no nel senso che mi sono sentito sempre un pochino dubbioso in alcune scelte che ha fatto c'è stata una giocata soprattutto con Carlos Augusto che era in ripiegamento difensivo ed era in ampio anticipo lui è uscito a 30 metri dalla porta in maniera un pochino avventata secondo me c'è da dargli il beneficio del dubbio comunque c'è da dare da dargliene atto non sta giocando praticamente mai quindi anche la confidenza con i compagni e il ritmo partita inevitabilmente va va considerato ecco che può mancare quindi gli possiamo dare l'ok comunque ha giocato molto anzi oggi secondo me si è l'inter soprattutto bis si è appoggiato molto più spesso al portiere rispetto ad un pavar che guarda anche un po' più in verticale e quindi ha gestito la palla di più per cui dai l'ok si lo merita andiamo a Bissec Jan Bissec su Bissec c'è sempre tanta divisione nel senso che basta poco per esaltarlo ad alcuni dall'altro lato oggi ho letto alcuni commenti negativi nel primo tempo perché Sansone obiettivamente aveva diverso spazio lì da quella parte però molto spesso secondo me non era colpa di Bissec quello spazio lì da un lato un po' frattesi ma soprattutto Dunfriss secondo me un paio di imprecisioni dopo i primissimi minuti col pallone tra i piedi stava perdendo un bruttissimo pallone con Sansone e a rischiato devo dire secondo me c'è da fare una tara sul fatto che siamo abituati a pavar e quindi con Bissec inevitabilmente c'è un po' di differenza credo che sia ancora un pochino poco confidente palla al piede nel senso che lui le potenzialità le ha però non è ancora così fluido e immediato nelle giocate tocca il pallone un pochino di più e Pavar si prende alcune scelte con più coraggio però poi Bissec fa alcune giocate in cui fa vedere che quel potenziale lì ce l'ha fisicamente ha dei mezzi impressionanti e vede poi delle linee di passaggio in campo aperto che sono veramente importanti per cui io andrei sull'ok vedendo anche la chat da quello che mi state dicendo faccio una media tra quello che mi dite sicuramente più alto di quello di Audero con buone dossi di fiducia sperando di rivederlo sempre di più eh De Vrij De Vrij per me è stato il migliore dei tre di difesa eh si merita il top assolutamente eh per per la partita che ha fatto perfetto su piccoli in copertura gol di testa ma gol a parte poi prende sempre più fiducia fa anche quel recupero a 70 metri dalla porta con cui va al tiro e De Vrij in questo momento è in un momento di forma veramente importante e e non sta sicuramente facendo rimpiangere a Cerbi di cui ha preso il posto ora che è infortunato in maniera stabile Carlos Augusto a sinistra ehm Carlos Augusto ragazzi è diventato un un cotitolare per dirla alla marotta assolutamente un cotitolare eh meritatissimo eh che merita sempre più spazio secondo me anche da terzo di difesa sta convincendo diciamo che in fase di manovra siamo abituati a bastoni di Marco che costruiscono meglio con grande fluidità eh e e oggi questa cosa un pochino è venuta meno infatti l'Inter ha costruito molto di più sulla destra eh poi però col passare dei minuti è andato anche a fare quella cosa che spesso facciamo a destra con Pavard e Darmian che si scambiano lo hanno fatto anche Carlos Augusto e e Di Marco dall'altra parte credo abbia pagato anche una serata non troppo clamorosa di Di Marco secondo me quindi Carlos diciamo ha avuto anche stava per fare gol poi Falcone gli ha tolto il pallone tra i piedi voi che dite tanti top tanti top per me è un pochino più basso del top sinceramente però da come mi state mettendo in chat vedo tanti top eh vi vi vengo dietro secondo me sarebbe per il momento lo mettiamo primo degli ok primo degli ok secondo me visto che da quella parte l'anquist è stato così così in un'occasione ci ha messo un attimo in difficoltà un ok molto alto alle soglie del top poi decidiamo se cambiare andiamo a centrocampo Dunfris e allora ragazzi a me dispiace eh perché Dunfris l'ho protetto l'ho coccolato in queste giornate e mi è molto piaciuto nelle scorse giornate oggi Dunfris per me è male devo dire nel senso che dalla parte destra abbiamo costruito di più siamo stati sicuramente eh più pericolosi però difensivamente a me Dunfris non è piaciuto per nulla perché ha avuto dei momenti in cui Sanchez veniva incontro e allora Dunfris andava a fare l'attaccante aggiunto ed è vero e lì frattesi doveva dargli più copertura ma è successo una volta o due poi per il resto Sansone è sempre stato da solo quando Dunfris dietro non aiutava mai Bissek e Bissek faceva giustamente le scalate e lasciava Sansone da solo qua a sinistra quindi per me Dunfris male e e anche davanti ragazzi cioè davanti davanti devi prenderti un po' di più l'iniziativa oggi con tutto il rispetto affrontavi Gallo e e Baschirotto non ha mai preso l'iniziativa offensiva ci mette sempre tanto mi dispiace oggi deve andare sul rimandato dalla chat mi dicono flop addirittura che ripeto non è un voto clamorosamente basso se è mangiato anche il gol abbastanza clamoroso dai possiamo metterlo possiamo metterlo flop ma non è una bocciatura clamorosa va bene flop lo possiamo mettere un po' cattivi però ci può stare per per questa sera ripeto non è un voto non è il quattro che di solito corrisponde al flop frattesi frattesi io su frattesi andrò contro corrente andrò contro corrente o almeno spero che poi in tanti abbiano cambiato idea col secondo tempo su frattesi secondo me c'è qualcosa di non lo so c'è qualcuno che magari soffia sulle critiche per frattesi quindi in tanti sono condizionati frattesi oggi è stato un pochino in ritardo su una copertura quando appunto don fris si era buttato in avanti ma poi ha sbagliato un passaggio in zona offensiva ed è stato massacrato per quello però poi fa il gol fa l'assist si butta in avanti e partecipa molto alla manovra stava per fare un altro assist con falcone che fa il miracolo su carlos augusto io ripeto e ribadisco un giocatore che gioca solo spezzoni o partite in cui tutta la squadra è rivoluzionata si porta a casa cinque gol se cinque gol e cinque assist fino a qui che gli vogliamo dire di più è un giocatore raro frattesi e bisogna dirlo un giocatore che ha questo feeling con la porta con l'attacco merita il top assoluto poi vediamo se alzarlo ulteriormente aslani aslani mi è piaciuto ha giocato con buona personalità fa un assist bellissimo per per lautaro martinez in verticale e fa una giocata da giocatore che ha una visione di calcio superiore cosa che aslani ci ha sempre fatto intuire e che finalmente sta cominciando a far vedere si prende un'ammunizione forse un pochino ingenua che poi lo porta ad essere sostituito però aslani per me stasera si merita di andare anche nei top probabilmente perché comunque sblocca la partita ok alto poteva dare di più è chiaro che se facciamo anche qui mettiamoci d'accordo nel senso che se facciamo il paragone con quello che vediamo di cernoglu di solito è chiaro che aslani oggi non è cernoglu mi dite top no tutti tanti ok boh io io l'avrei messo più alto mi dite ok vi vi vengo dietro vi vengo dietro michi tarian michi tarian è l'altro voto è l'altro mio personalissimo voto negativo di serata sapete che io sono sempre un grandissimo fan di del mitico treno armeno oggi una delle sue partite non dico delle sue peggiori partite perché non sono d'accordo ci sono state partite in cui è stato dannoso difensivamente oggi non è stato dannoso difensivamente ma estremamente impreciso paradossalmente anche oggi è un'altra partita in cui fa molto meglio nel recupero nel recupero palla negli equilibri piuttosto che in fase offensiva e boh per me è stanco era l'occasione oggi per farlo rifiatare è stato fatto rifiatare nel secondo tempo michi cinque e mezzo rimandato sicuro rimandato sicuro sono d'accordo con me lo state mettendo tutti nei rimandati e speriamo che avrà modo di rifiare di rifiatare bene in vista dell'atalanta di recuperare bene nelle prossime partite e magari ecco se si vince con l'atalanta si può far rifiatare del tutto la prossima partita di campionato col genoa potrebbe essere una scelta una scelta corretta poi è sempre prezioso va bene lo mettiamo lo mettiamo alla pari di dunfis dai si dunfis flop un po cattivo lo mettiamo nei rimandati dai e entrambi entrambi rimandati poi andiamo avanti con di di marco di marco ragazzi io lo metterei che ha fatto di marco sto ripensando la partita velocemente a sinistra abbiamo attaccato pochissimo fa un tiro al volo molto bello e falcone lo para bene cioè dunfis almeno si è buttato di più in avanti di marco rimandato di marco rimandato finisce cioè se mettiamo rimandato dunfis anche di marco va in quella categoria lì almeno dunfis si è visto un pochino di più tra l'altro molto molto in ombra oggi molto in ombra rimandato andiamo agli attaccanti alexis sanchez a me sanchez è piaciuto è stato molto prezioso con l'assist che fa frattesi fa l'assist a frattesi che 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 non è un assist banale perché non c'era spazio non c'era campo io lo mette bene e frattesi deve soltanto toccare il pallone per metterlo per metterlo in rete e poi partecipa alla manovra si fa trovare bene a me stasera sanchez visto che non giocava a titolare tanto tempo l'ho visto pronto tirato a lucido in una partita così ti dimostra che puoi contarci quindi sanchez vi vengo dietro e lo mettiamo nei top sono d'accordo con voi sono d'accordo con voi alexis andiamo a lautaro martinez domanda secca lautaro ragazzi fa doppietta ma al di là di questo la sua partita è da mvp oppure dobbiamo premiare qualcun altro lo chiedo a voi perché queste sono le pagelle dei tifosi quindi decidete voi lautaro oggi ha lavorato tantissimo spalla la porta e poi però si fa trovare anche da centro avanti sblocca la partita una partita che rischiava di diventare complicata e poi fa il 3 a 0 che chiude i conti e continua a migliorare le statistiche che sono impressionanti va bene non ci sono non ci sono dubbi dalla chat mvp allora per il capitano lautaro martinez 100 e 101 in serie a con la maglia dell'inter stasera con questa doppietta e si prende ancora la mvp panchina quelli che sono sub entrati allora andiamo con ordine nicolo barella barella mi è piaciuto come entrato subito con personalità subito con il con l'interruttore acceso sulla partita per nicolo che aveva servito anche un grande assist poi purtroppo dunfriss se l'è mangiato in maniera abbastanza impressionante poi chiaramente la partita era anche più semplice nel momento in cui entra barella è perché entra sul 2 a 0 se non ricordo male però lui contribuisce a dai si è sulla scia di quello che ha fatto vedere con l'atletico madrid ci ha fatto vedere che sta entrando nella condizione del barella che ci farà divertire quindi top anche per barella dopodiché gli altri subentrati la difesa non sono stati sostituiti abbiamo visto il ritorno in campo di classen classen è entrato bene l'ho visto diciamo come dire come dire l'ho visto come è un giocatore che comunque ha delle doti tecniche e a livello anche di testa di di con di classe è un giocatore superiore se così vogliamo dire comunque si vede che è un giocatore di classe sicuramente e e quindi sulla base di questo poi in un contesto che funziona prova a fare anche delle grandi giocate in alcuni momenti forse anche un pochino troppo perché c'era una giocata in cui va a fare un lancio di mancino a cambiare campo dove poteva tranquillamente accomodarla a sinistra potevamo ripartire però sono buoni segnali ha giocato con ordine con qualità si è anche inserito sul secondo pallo tra l'altro se falcone non fa il miracolo subito dopo carlos augusto c'era classen quindi bene poi gli altri subentrati abbiamo buchanan che entra e fa vedere quello a cui ormai cioè quello che ci aspettavamo da buchanan punto all'avversario con fiducia con gamba con dribbling cosa che a quest'inter sicuramente manca quindi porta porta quelle caratteristiche in più per cui buchanan si prende un ok anche lui direi anche arnautovic arnautovic entra bene ha avuto sul qual è l'azione che fa lo scavetto per frattesi e poi frattesi credo faccia l'assist per non mi ricordo quella relazione che frattesi poi la rimette in mezzo adesso un vuoto di memoria e comunque arnautovic è entrato bene col sorriso e ha fatto il suo gli diamo un ok anche a lui quindi così non mi ricordo quella relazione che fa un bello scavetto per frattesi poi frattesi la gira in mezzo e credo sia l'azione sempre di carlos augusto anticipato va bene e poi falcone gli toglie anche un'altra opportunità dove stava per metterla dentro per cui bene chiudiamo poi con akin sammiro purtroppo non abbiamo la figurina di akin sammiro visto che oggi al debutto in serie a è entrato bene secondo me anche lui anche akin sammiro con personalità comunque giovane al primo alla prima presenza in serie a promosso la primavera si fa vedere subito molto verticale questa cosa mi è piaciuta molto pochino sporco in alcuni passaggi in alcuni palloni controllati però si è fatto vedere bene e diciamo queste opportunità devi coglierle per far giocare questi ragazzi dalla primavera bravo bravo akin sammiro chiudiamo con simone inzaghi ragazzi simone inzaghi c'è poco da dire finisce sempre nei top ormai è stabilmente lassù perché comunque fa vince 4 a 0 in trasferta ancora una volta lo fa facendo un ampio turnover che dire ampio comunque molto ampio turnover ecco molto importante sta dimostrando di vincere in ogni maniera sia che devi dominarla sia che devi ribaltarla qualsiasi cosa comunque in questo momento le sta vincendo tutte sta integrando sempre più giocatori ci ha fatto vedere anche buchanan oggi prestazione perfetta secondo me da parte di simone inzaghi che potremmo mettere anche un pochino più su però stiamo tenendo questa linea dell'inserire un solo mvp a partita per cui mettiamo lautaro martinez queste sono le scelte allora della community di passione inter fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo oppure no con i vostri voti con i nostri voti vi aspettiamo ovviamente in diretta per dare le valutazioni insieme insieme a noi mi raccomando vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e su passione inter punto club vi aspettiamo per commentare tutti insieme la partita e non solo mi raccomando passione inter punto club per entrare a far parte della nostra grande community di passione inter grazie a tutti i nostri dati ACE Grazie.